Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, presenta la prossima stagione di Prosa, su iniziativa del Comune di Pesaro con l'AMAT e con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Dal 21 al 24 marzo, Tre donne alte di Eduard Albi, regia di Ferdinando Bruni. Un capolavoro di intelligenza, abilità teatrale e profondità, Con i suoi dialoghi, in cui affronta senza reticenze argomenti che spaziano dall'incontinenza all'infedeltà, Albi ci offre un ritratto della vecchiaia lontano anni luce da qualsiasi sentimentalismo.